Ciao, sono Banfi Andrea, studente del secondo anno del corso di Scienze Biologiche qui all'Università degli Studi dell'Insubria. Se sei capitato su questa pagina è perché stai valutando di iscriverti al nostro Ateneo. Ecco tre buoni motivi che nella mia esperienza potranno aiutarti a scegliere come me il percorso di Scienze Biologiche. Primo tra tutti è la possibilità sin dal primo anno di frequentare i laboratori. In secondo luogo i docenti che mi hanno aiutato a stimolare il mio interesse per la materia e per lo studio. In terzo luogo è la possibilità di continuare l'aura triennale con lauree magistrali nel campo del Biomedico e delle Biotecnologie sempre qui all'Insubria.